Presidente Cappa, perché la BAM punta su questa realtà pallavolistica, monregalese e femminile? Intanto perché è delle nostre zone, assolutamente nel territorio dove la banca opera ormai da oltre 150 anni ed è un settore, quello dello sport, a cui guardiamo per i giovani, per lo sviluppo dello sport all'interno di tutto il mondo giovanile, non solo con le prime squadre ma anche con tutto il settore giovanile e i vivai che alimentano poi anche la squadra di serie massima. Che tipo di indicazioni avete avuto dalla collaborazione e dal rapporto dello scorso anno con Mondo V, femminile volley? Intanto un ottimo ritorno perché ci hanno portato parecchi atleti, sia quelli della prima squadra ma anche tutto l'indotto come clienti della banca come gente che fruisce dei servizi della banca e poi anche di visibilità, non solo a livello locale ma con il marchio della banca di credito cooperativo anche a livello nazionale, cosa che è importante proprio per noi che siamo del credito cooperativo, quindi siamo banche che operano in modo un pochettino diverso rispetto alle banche normali per i principi a cui guardiamo e per gli obiettivi che abbiamo. Lei è anche tifoso della LPM BAM Mondo V, presidente, cosa si augura, cosa si aspetta da questa stagione? Le attese sono tantissime, io auguro che ci sia intanto, che si mantenga quello che è il rapporto di questa associazione, di tutte le persone che collaborano, che è assolutamente intenso, molto attivo e aiuta tantissimo la squadra. Con queste caratteristiche penso potranno avere traguardi importanti. Ce l'hai ancora.